La saltarella è invece più accelerato. Che è te, c'è una qualità migliore. Nonostante fuso una signora scimmia, no? Non so. A partezza a Napoli. Sai che stia a fa'? Che stanno? La prima cosa che scimmia è dato a un tempo. Si spendo qua, oh. Si spendo qua. E fa' la partita, vai. Fa' la partita. Ecco qua, sta a posto. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.